Fernando Valentino è una persona che ho conosciuto da giorni però è così genuino che è a pelle è sicuramente una persona molto simpatica e ammolita grazie 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 per la persona che a pochi paesi hanno il lusso di avere i religiati competenti in me, sono la scondizione dal primo minuto che mi ha conosciuto. Sono rimasto, ahimè, all'inizio, perché veramente questi appensamenti, ogni giorno, per quanto riguarda il settore giovanile, e poi mi rivolgo pure ai riposi, è un sostegno che va creduto perché i ragazzi hanno bisogno di noi, e noi saremo vicini a loro, buoni maestri, adatti, perché tutti siamo in tentazione di noi. Vedere la partita ieri in Italia, tutti avremmo avuto qualcosa da dire o da sfrutturare o da cambiare. Però per la crescita dei ragazzi ci sono persone coerenti che utilizzano prima l'educazione e poi, anche l'accesso.